Ho iniziato a giocare a calcio 16 anni fa. La libertà è che si sente calciando un pallone. E poi naturalmente la voglia di vincere e fare la storia. Fu due anni fa, quando in Olanda feci la mia prima partita per la nazionale maggiore. E se tutti sugli spalti c'erano i miei nonni. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Tutto è possibile se ci metti voglia, entusiasmo e passione. Atletico de Madrid è un club importante dove si apprende tantissimo. Vestire la maglia di questo club è un'emozione speciale. Ti permette di sognare.